Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi quanto ha testimoniato Padre Giambattista Lomonaco, un degno figlio spirituale di Padre Pio, racconta Padre Marcellino nel suo libro testimonianze, perché fu proprio Padre Giambattista a donare una serie di appunti che riguardavano tutti i suoi incontri con Padre Pio. Il Padre gli ha dato ampie assicurazioni di stargli sempre vicino nel suo cammino spirituale e questo ne ha dato prova. Infatti nel marzo del 1940 lui era in prestia, attese Padre Pio che rientrasse dalla chiesa, quindi per togliersi i paramenti sacri, e lui lo aiutò e poi si avvicinò all'orecchio, ne approfittò nel momento in cui era un po' distante dagli altri e gli chiese Padre Pio, io sento che lei mi è sempre accanto, è fissazione oppure è realtà? Padre Pio, mentre si stava spogliando dei paramenti, si gira, si volta verso Padre Giambattista Lomonaco, lo guarda e dice che cosa è la fissazione? E subito Padre Giambattista, forse è una mia impressione, aggiunge Padre Giambattista volendosi un po' ripigliare, e Padre Pio subito ribatte che cos'è l'impressione? Un po' confuso poi il sacerdote, Padre Giambattista gli chiede, dunque è in realtà? Padre Pio sorridendo gli annuisce con la testa. Poi in un'altra occasione nel 1965, però nel dicembre del 1965, Padre Giambattista ha una grande occasione, Padre Pio si trovava nella verandina, era da solo, quindi ha la possibilità di poter chiacchierare con Padre Pio, poter stare con lui, questo lo racconta nel suo diario, però gli fa un'altra domanda, gli fa una domanda specifica dove lui era sempre attento a quel tipo di situazione, voleva sapere se Padre Pio era accanto a lui, allora glielo chiede. Spesso Padre, dice Padre Giambattista, io la chiamo, ma lei mi sente? E Padre Pio, voltandosi verso Padre Giambattista, gli dice, beh Padre Giambattista, io non sono ancora sordo.